Perché gli stiamo levando il giochino. E lo stiamo levando anche a quelli che per anni hanno detto che erano contro gli sprechi. Lo dico qui. Mi smentiscano se non è vero. Cinque Stelle va in tutte le trasmissioni televisive a dire che rinunciano ai soldi del finanziamento. Solo il Senato ogni anno dà oltre 2 milioni di euro al gruppo Cinque Stelle che vengono utilizzati per lo staff della comunicazione, per lavorare su tutta la parte social network, per insistere a creare quel clima che è il clima che danneggia il Paese. Sono soldi pubblici quelli che vengono utilizzati dal Movimento 5 Stelle. Anche il PD, perché diciamo la verità, il giochino si toglie anche a noi. Sei milioni di euro li tolgono anche a noi. Ma noi stiamo togliendo a una generazione che ha fatto per anni gli accordi, gli inciuci e le bicamerali. E alla generazione di quelli di ora che vorrebbero cambiare le cose e che poi di fronte alla prima difficoltà si accorgono che stare nel mondo reale delle amministrazioni comunali non è stare nel magico mondo del blog. E si rendono conto che dopo averci fatto la morale che neanche un assessore al bilancio riescono a trovare. Applausi Grazie Grazie Grazie